Quello che è più semplice rivelare sono proprio i raggi gamma, cioè esattamente come gli orbitali, le energie ben discrete, ben definite degli elettroni atomici mi dicono che il materiale è, per esempio nel cesio che è quello che è stato emesso dall'incidente di Fukushima, anche di Chernobyl, ma anche dalle esplosioni nucleari nell'atmosfera degli anni 50, io mi ritrovo con una riga ben precisa che è questa a 660 keV o 0,6 MeV, proprio perché questo cesio è radioattivo, per quello che è pericoloso, decade nel bario e quando decade questo stato eccitato mi emette questo raggio gamma, quindi nel cesio 137 rivelato da Fukushima c'è questo picco del cesio e poi c'è quest'altro picco del 134, tra l'altro il rapporto isotopico tra il 134 e il 137 è quello che mi dice che appunto era stato prodotto da Fukushima, perché vi era il 50% di cesio 134 e il 50% di cesio 137. Questo qui e poi via via è andato decadendo in funzione del tempo, cioè ogni due anni il 134 si è ridotto, si è ridotto, si è ridotto, fino appunto a sparire e quindi quando poi era stato emesso si capiva che questo era proveniente da Fukushima perché c'era questa abbondanza isotopica. Nel caso di altro materiale, per esempio quello di Chernobyl, questo 134 era completamente assente e quindi non si vedeva, quindi si riesce a discriminare se era un materiale oppure un altro proprio dall'analisi isotopica, è in scala logaritmica, quindi questi sono 10.000, 1110 conteggi, quindi la maggior parte delle interazioni sono qua, queste sono molto più rare perché avvengono in regia più elevata, quindi in realtà appunto il cesio 137 c'è solo questa di decadimento, il 134 ce ne ha tre di picchi, vedi questo qui ha 500 Kev, questo qui ha 800-900 e questo ha 1000 qualcosa, perché l'eccitazione di questo cesio poi decadendo mi dà, per lo più mi dà questo, però ogni tanto mi può dare questo, perché è tutto statisticamente e raramente mi dà questa qua, quindi di nuovo questa qui è la firma del 134, se io vedo questi rapporti qui tra l'altezza e i picchi sono sicuro di quello che sto osservando, è più denso anche perché anche qui è scala logaritmica, di nuovo qui io ho 10 Kev, 100 Kev e un Mev, quindi se io dovessi mettere gli ultravioletti starebbero qua in questa scala e il visibile sarebbe fuori della scala a sinistra, sempre la lezione elettromagnetica, però appunto quella che noi vediamo è molto molto lontano.